Ciao ragazze, video velocissimo con una piccola news, purtroppo arrivo in ritardo perché mi sono accorta dopo allora, non so se voi avete acquistato To Style la settimana scorsa, il giornale appunto di moda, di shopping eccetera ovviamente a me non interessa nulla il giornale perché non sono pagata per fare pubblicità ma all'interno con un euro c'era questo buonissimo idratante, è una lozione protettiva, un latte di protezione solare 15 è un buon formato perché appunto erano mi sembra 59 ml, eccolo qui ed è della Hawaiian o Hawaiian, come dice qualcuno, Tropic ed è una linea di solari che non avevo mai provato questa qui ha le famose proteine della seta ecco, allora il formato è stato un buon formato perché l'ho potuto spalmare tranquillamente anche dopo la doccia e devo dire che sono rimasta veramente colpita, non tanto dal fatto che sia efficace perché non ho preso il sole quindi non posso dirvi, ma perché è di un profumo veramente gradevole, veramente veramente buono eccolo qui e non so se è rimasta qualche copia magari dal giornalaio ma era appunto ad un euro c'era Too Style, poi regalavano insieme Gioia, che a me tanto non piace ma insomma o Grazia, o Gioia, mi sembra Grazia scusatemi, Grazia e in più c'era anche questo formato di dopo sole vi assicuro è buonissima, eccolo qui io penso che se andrò al mare comprerò qualcosa di questa linea perché l'ho scoperta adesso ed è veramente profumatissima oltretutto all'interno è anche striata sembra, vi mostro, non so se si vede ho paura di no eccolo qui sembra una caramella di quelle dei film si vede forse la striatura, sì ecco è appunto beige con delle righine rosa antico ed è buonissima, guardatevi, è sicuro speciale ecco, se non andate al mare la potete usare come dopo doccia o dopo bagno veramente è un profumo delizioso ecco d'estate lo potete portare anche uscendo se fate la doccia e il salto come me è buonissimo quindi ecco lì solo per condividere questa piccola cosina però sono stata contenta perché è veramente buono eccolo lì vi ricordo il giveaway e vi saluto ciao ragazze